Questo è il nostro paese, Monte San D'Angelo, città dei due siti uresco. La basilica di San Michele a Cangelo è la foresta ombra. E questa è la chiesa dell'Immacolata, chiesa parrocchiale del nostro paese. Circondata da case popolari, ma anche da appartamenti privati. Molti di noi ci vengono la domenica a missa e frequentano anche il catechismo. Dopodiché si fermano a giocare alle giostine che sono lì davanti. Grazie per la visione! Oppure a fare una e partite al campetto. Ma non sempre tutto è pulito e adatto ai bambini. Molto spesso bisogna stare attenti a dove si mettono i piedi. Perché si trovano carte, lattine e plastica di ogni tipo. Per questa ragione oggi siamo partiti dalla scuola. Molto spesso bisogna stare attenti a dove si mettono i piedi. e armati di guandi, rastrelli e sacchetti. Abbiamo pulito tutto! Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.